La macchina, come tante altre a Barcellona, con qualche elemento di pensione in più, per protesta contro le direzze della polizia in una giornata che ha contestato a voto referendario, una piattaforma sindacale, politica e anche sportiva ha proclamato una giornata di sciopero. In macchinata la polizia controllava ogni perpugio, anche perché a Barcellona è ancora alta l'alerta dei dati. Si fermano anche la Sagrada Famiglia per una prima volta storica e i calciatori. L'adesione a Rociopero è stata confermata ieri sera dal portavoce della società catalana per protesta contro le direzze inaccettabili, ha detto la squadra. Oggi non si allenerà. Chi si è allenato tra i fischi di alcuni tifosi è Gerard Piqué, difensore della Nazionale, che sarà detto fiero di essere catalano e pronto a lasciare i rossi se la sua presenza avesse dato fastidio. Domenica il suo commento in lacrime dopo la partita a porte chiusa del Barcellona contro la Spalmas aveva commosso molti. E ne aveva irritati altrettanti.